Oggi sono in compagnia di Angela Pitteri, mi raccomando il microfono, io sono Nicola Polombo, qui docente di web marketing, l'Istituto Italiano di Design. Oggi parliamo di una cosa fighissima, di una borsa ecologica, giusto? Che si chiama Care Bag, che viene prodotta con la tecnica dell'autoriciclo, giusto? Sì, comunque ho pensato di, cioè ho ideato una borsa pensando a utilizzare materiali di recupero, e sono un agronomo e quindi istintivamente mi è venuta l'idea di pensare a materiali che provenissero dall'agricoltura. Ah che figata, cioè tu sei un agronomo e sei arrivata poi al fashion design. Sì, ci sto arrivando, ecco, mi piacerebbe arrivarci, ecco. Mi piace la moda e attraverso la moda, o comunque nella moda volevo portare questi prodotti e sensibilizzare in questo settore. Quindi ho pensato di abbinare due mondi completamente diversi, cioè la moda e l'agricoltura. E quindi la borsa è nata come un prodotto che utilizza prodotti di recupero come il feltro, cioè una lana che in teoria verrebbe non utilizzata, soprattutto adesso in passato veniva utilizzata, e dei bottoni con legno di olivo, dalla potatura del legno di olivo. Poi adesso sto andando in produzione con le prime 320 borse, però fino all'anno scorso, fino a qualche mese fa, avevo dei prototipi, però studiando i prototipi, avendo anche dei collegamenti o dei rapporti con gli stalker, gli stalker, no? Come si chiama? Stakeholder. Stakeholder, perdonate. Anche gli stalker, a metà, per le donne. Stakeholder, bravo. Ho avuto degli input, no? E dal taglio dei bottoni ho utilizzato del plexiglass che loro buttavano, no? E quindi ho fatto anche dei bottoni in plexiglass e spero anche di utilizzare la canapa come tessuto per l'estate, però usiamo la canapa come filo per cucire. Ma l'idea carina, secondo me, è che te la puoi costruire da sola questa borsa. Sì, infatti tu hai, crei un kit proprio di borsi, di montaggio eco-friendly per borsi ecosostenibili. Sì, sì. Quindi tu te la puoi costruire da sola e ci sono già dei buchi preforati e ci sono le istruzioni su YouTube e quindi chiunque si può costruire la propria borsa. Che figa. Sì, penso che è carino, comunque chi non se la vuole costruire, che non ha voglia, non ha tempo, penso di farla costruire, già ho iniziato a farla costruire a persone in difficoltà. Siccome non devi essere in grado, cioè non devi saper cucire, ma ecco, devi avere solo la possibilità di avere del tempo, chi è in difficoltà, donne senza lavoro, donne incinte o che hanno avuto dei bambini da poco, ecco, è una cosa che mi sta a cuore, io le porto le borsi a casa e le possono costruire. Quindi mi piace anche l'idea di aiutare delle persone. Facciamo un passo indietro. Praticamente tutta questa idea nasce da uno spin-off dell'università, giusto? Sì, sì, noi siamo nati nel 2012 all'interno della facoltà di Agraria e come posso dire, è uno spin-off che nasce come lavori tecnici, per fare dei lavori tipo VAS, via, vinca e che sono lavori proprio tecnici. Invece all'interno dello spin-off non ho queste competenze, sono un pochino più creativa e quindi mi sono notato che è mio. Ho pensato, è vero che comunque all'interno dello spin-off e facendo delle attività ho visto che comunque le persone, è difficile sensibilizzare le persone. Quindi ho pensato che con la mia creatività e con un prodotto potevo arrivare a tutti. Magari vado al parrucchiere, prima dicevo quello che facevano, non capivano, no? Veramente. Adesso con la borsa posso parlare di queste cose a tutti. Sì, è una cosa che lega le persone. Sì, che lega le persone è una cosa semplice e attraverso un prodotto posso parlare di questa idea e questa cosa mi piace. Io spero di arrivare. Spero di arrivare veramente perché l'idea per me è bella e spero di aiutare qualcuno. Ecco, però se non dovessi riuscire, io già parlandone un pochino sto seminando qualcosa. Ho iniziato un percorso, poi la vita non si sa come andrà. Io mi auguro che possa andare. Però già parlarne, ecco, anche questa occasione per me è una bella occasione, vi ringrazio. È positivo, ecco. Quindi sono contenta che posso parlare di questa cosa. Ti volevo chiedere anche, no? Ovviamente tu sfrutti la filiera corta, cioè su tutte le cose del territorio. Sì, uso cose del territorio e poi adesso nel prototipo un pochino mi sono da allontanare, ma di poco. Sono arrivata in Toscana, però spero dopo di produrre il feltro qui proprio in Umbria. E quindi l'ho fatto per promuovere il lavoro nel territorio. Cioè, ho fatto anche un accordo con un'azienda di qui che è la Grafox e tutto il packaging lo faccio con loro. Poi, sempre con collaborazioni, ho provato a collaborare e sto collaborando con una scuola di Todi, con l'Ipsia. Adesso a ottobre, il 12, 13, 14 ottobre a Roma, al Makefair, porteremo un complemento d'arredo in cartone, che è una pecora, e quindi utilizzerò il feltro, l'olivo, il cartone e dei sensori per monitorare all'interno della camera del bambino se ci sono degli inquinanti. Ecco, è una cosa carina fatta con la scuola e questo per me è bello e carino. Sì, spieghiamola meglio questa cosa. Cioè, tu hai realizzato cosa? Adesso è un prototipo, è un complemento d'arredo, è un dondolo. L'ho fatto, è un gruppo di lavoro, da sola non fai niente. C'ho una mia amica cara che si chiama Lara Viscarelli che mi aiuta, la scuola Grafox e abbiamo ideato un dondolo, un dondolo in cartone. La struttura è in cartone. All'interno del dondolo ci sono questi sensori di arduino e questa componente l'ha studiata alla scuola, il professore Luigi Maselli e Riccardo Fiacca. L'esterno, le orecchie della pecora saranno in feltro che uso nella borsa e anche il manico per reggersi. Il bambino sarà in legno di olivo, quindi è un evolversi della borsa. Figo, ma tu non sei una persona così campatenare, diciamolo, tu hai vinto anche dei premi, diciamolo. Sì, sì, carino che sei. Ho vinto il premio due anni fa, ho vinto il premio due anni fa, il Maker Faire di Roma e quindi è stata una bella soddisfazione, ecco, perché la borsa due anni fa ha vinto questo premio. Ed era l'inizio? Era l'inizio, era la prima borsa. Era la prima borsa. Io penso, sono stata anche fortunata perché c'era una donna in la giuria, in americana e quindi loro hanno veramente… C'è una sensibilità maggiore. Sì, c'è una sensibilità maggiore, sì. Quest'anno però vado oltre che con sei borse, in due anni abbiamo fatto sei modelli e avremo una produzione vera e questo complemento. Quindi piano piano stiamo crescendo. Bello, bellissimo. E l'ultima domanda, un po' più filosofica, è borsa ecologica versus borsa industriale. Perché farsela da soli? Perché, ecco, perché farsela da soli? Perché la borsa è un avvicinarsi a fare altre cose da soli. Ecco, io ho voluto dare un aiutino perché è più facile, perché ci sono già dei fori, ci sono delle istruzioni, però noi spesso dovremmo farci delle cose da soli. Spesso noi andiamo… Io pure lo faccio, non è che sono perfetta. L'insalata la compro spesso, non sempre, però la compro già lavata. E invece ogni azione dovrebbe essere pensata. Ecco, cercare di fare il più possibile da soli, perché tu se trovi tutto già fatto consumi molto di più. Quindi quando possiamo riciclare o fare da soli, facciamo del bello nel pianeta. Questo è verissimo, questo è un grande messaggio che ci dai oggi. Carino. Allora, dacci un po' i link di riferimento per trovare tutto quanto. Ecco, la borsa la trovate su www.greenbag.cloud e su Instagram Carbag Green Fashion, su Facebook Carbag Green Fashion. Ecco, stiamo messi benino e ci potete trovare. E anche comprarla online. Bene, figo, bene, allora avete tutto. Cioè, siete uno spin-off vero e proprio, fantastico. Sì, grazie. Ok, grazie mille Angela. Vuoi dirci qualcos'altro? No, io vi ringrazio, vi ringrazio questa opportunità e io do un messaggio e spero che una cosina al giorno chiunque la possa fare. Dalla mobilità al cibo, bio, ecco, ogni azione ha una sua valenza, un suo peso. Quindi ogni giorno pensiamo almeno a fare una cosa carina e una cosa green. Bene, anche io oggi ci proverò. Grazie. Ok, grazie ancora e alla prossima intervista su Radio Design. Andiamo qui.